Tutti pazzi per Clubhouse, il nuovo social di tendenza. Dopo quanto avvenuto con Signal e con la vicenda GameStop e Bitcoin, Clubhouse è un'ulteriore conferma del fatto che oggi sia Elon Musk a dettare le tendenze del mondo online. La nuova app, una sorta di radio social in cui si discute a voce all'interno di stanze tematiche, tra l'altro da pochissimo iniziata a diffondersi anche in Italia. Qualche giorno fa il fondatore di Tesla è sbarcato sul nuovo social, ospite della stanza organizzata dal venture capitalist Mark Anderson. È stato il primo vero grande evento di Clubhouse con risonanza globale che ha rischiato di mandare in tilt i server del social fondato dall'imprenditore della Silicon Valley Paul Davison e Ron Seth, ex impiegato di Google. Il giorno successivo anche in Italia si è registrato un fiume di arrivi impressionante, soprattutto se si considera che questa app è ancora in fase beta, disponibile solo per iOS e che si può iscrivere solo chi riceve un invito. Ma come funziona Clubhouse? Clubhouse è un nuovo prodotto social che permette alle persone, ovunque si trovino, di chiacchierare, raccontare storie, sviluppare idee, approfondire amicizie e incontrare nuove persone interessanti in tutto il mondo. Fondamentalmente Clubhouse è un'app che permette di discutere solo ed esclusivamente a voce all'interno di stanze, principalmente tematiche che chiunque può aprire e la sua partecipazione varia da una manciata di persone a svariate migliaia, a seconda di quanto sia interessante il tema trattato o di quanti follower hanno le persone che hanno lanciato la stanza. Valutata 100 milioni di dollari già quando aveva soltanto 1500 utenti e secondo alcune statistiche attualmente avrebbe raggiunto i 2 milioni di utenti attivi, la valutazione continua ad aumentare. Attualmente è circa un miliardo di dollari. Clubhouse sembra essere il prossimo unicorn della Silicon Valley, tante vi pastelle e strisce come Oprah Winfrey, Drake, Kevin Hart e Chris Rock sono già dentro il club. E voi ci siete?